7 dicembre 2019 Sant'Ambrogio Vescovo Gratuitamente Dal Vangelo secondo Matteo capitolo 9 In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai Suoi discepoli, La Messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della Messe, perché mandi operai nella Sua Messe. Chiamate a sé i Suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro, rivolgetevi alle pecore perdute della Casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La grazia è ciò che Dio dona all'uomo. Tutto è grazie, poiché tutto proviene da Dio. La gratuità dunque appartiene alla modalità più caratteristica di Dio. Essa proviene dalla sua intima essenza, cioè l'amore. Nulla deve Dio all'uomo e tutto dobbiamo noi a Dio. Dall'esistenza ai mezzi per la crescita fino al tributo più grande, che è il riconoscimento che tutto viene da Lui e Lui deve ritornare. La restituzione consiste proprio in questo attributo alla verità delle cose della nostra relazione con Dio, se non vogliamo vivere nella disonestà di attribuire a noi stessi qualcosa, prescindendo dal nostro esistere voluto da Dio. La brutalità e l'egoismo sono frutto di ignoranza, spesso colpevole, sulla verità di Dio che dona all'esistenza. Ebbene, noi cadiamo spesso in questo errore di credere che tutto ci sia dovuto, come un diritto fondamentale. È fondamentale quel diritto che sta alla base degli altri senza bisogno di essere giustificato, similmente a quelle verità evidenti che non possono avere una dimostrazione che le preceda, poiché si tratta dei mattoni primordiali delle cose della vita. Ebbene, noi viviamo di Dio ma senza riconoscere il debito dell'esistenza e ne facciamo un diritto, prescindendo dal Creatore. La persona umana diventa origine e fonte di diritti senza pensare che se essa fosse soggetto autonomo di diritto dovrebbe possedere in sé la possibilità dell'autodeterminazione a cominciare a cominciare a desistere. Mentre noi siamo frutto della decisione di altri perciò noi non siamo fonte di diritti a noi stessi ma soggetti di dono di altri dai genitori immediatamente da Dio che tutto chiama l'esistenza come causa iniziale. I diritti accampati in realtà si rivelano ben presto delle pretese ed esse facilmente si estendono per lo stesso errore di fondo a tutti gli aspetti della vita. Ma ciò costituisce il peccato degli uomini quello basilare o se vogliamo delle origini. La redenzione di Cristo corrisponde al progetto di salvezza dell'uomo proprio da quella condizione miserevole la quale è originata dal peccato di autonomia da Dio. La prigionia dell'ignoranza della distorsione della verità è la situazione dalla quale Gesù ci vuole liberare. Perciò egli procede per gradi con azioni diverse in quanto lo scopo è quello di far capire che la prima forma di catena che salda tutte le altre il male principale insomma è proprio l'ignoranza di credersi liberi. Solo fornendo una luce alla coscienza noi siamo posti nella chiarezza della nostra situazione. Siamo schiavi della nostra presunzione dalla quale derivano tutti i mali quelli che predispongono al consolidamento della prigionia quell'eredità dei genitori e quella che la consolida ovvero quello che noi facciamo ripetendo i comportamenti dei nostri progenitori. La liberazione di Gesù dunque non si può esaurire semplicemente con una dottrina ma nemmeno con un'azione di intervento sul male specifico che ci affringe come una malattia la povertà eccetera. Queste sono conseguenze le quali dipendono da causare remote che noi ignoriamo o che non consideriamo. Perciò l'azione di redenzione di Gesù si attua su vari livelli quello del tocco che risana le malattie per far sperimentare la sua potenza la grazia di Dio che tocca e comunica il bene con il dono della salute. Insieme a questo la predicazione del regno che è quella serie di nozioni che non si possono conoscere se non vengono rivelate. Dio ci rivela il nostro destino eterno insieme all'insegnamento basilare della nostra situazione di prigionia e necessità spirituale a causa del peccato e dietro a questo l'azione di Satana colui che è causa di ogni ignoranza e prigionia indotta il padre della menzogna. Gli sorsismi sono il segno della liberazione più ampia che viene donata con la liberazione dal peccato. Il dono grande è quello della verità che ci fa liberi di capire pensare e scegliere ma la verità Gesù ci mette in condizione di esserlo in virtù della redenzione dal peccato e liberazione dalle catene del demonio. Dio vi benedica.